Dall'oroscopo alle lenticchie, dal bagno gelato al bacio sotto il vischio, le tradizioni per iniziare al meglio il nuovo anno hanno radici profonde e si accompagnano i più svariati riti propiziatori tramandati dalla storia. A tavola, che siate i commensali di un cenone da tre stelle Michelin, di un'usteria o del cenone organizzato a casa vostra, sarà impossibile sfuggire al rito delle lenticchie con cotechino-zampone come primo piatto dell'anno nuovo. I romani consideravano il legume come un investimento per i mesi a venire e l'ultimo giorno dell'anno ne regalavano una scarsella piena, la borsa di cuoio da tenere legata alla cintura con l'augurio che si trasformassero in moni tesonanti. Quanto al cotechino e allo zampone, l'origine pare sia dovuta a Pico della Mirandola, che nel 1511 consigliò ai mirandolesi, assediati dalle truppe pontifice, di macellare i pochi maiali rimasti nelle stalle, mettendo la carne dentro le zampe e la cotenna dei suini con tanto di spezie. Cotechino e zampone, così diversi all'apparenza, hanno lo stesso ripieno. La differenza sta tutta nell'involucro, la zampa di maiale, rigorosamente quella anteriore per lo zampone, e il budello, naturale o artificiale per il cotechino. E come non ricordare inoltre la tradizione di baciarsi sotto il vischio a capodanno? L'antico rituale si fa risalire a un'antica leggenda di origini nordiche. Si narra che Loki, dio del male, irascibile e invidioso, avesse progettato di uccidere suo fratello Balder, dio del sole, buono e amato. La loro madre, la dea celtica Freya, protettrice degli innamorati, fu avvisata della tragedia che stava per consumarsi e provò a proteggere Balder, chiamando in aiuto ogni piante animale, dimenticandosi però del vischio, che Loki intrecciò per costruire un'arma puntita e uccidere Balder. La dea Freya pianse disperata, ma le sue lacrime, cadendo sull'arma fatta di vischio, si trasformarono in bacche perlate che miracolosamente ridiedero vita al figlio. Dallora, la dea ringraziò con un bacio tutti quelli che passavano sotto al vischio, ritenendo lo simbolo dell'amore che sconfigge la morte e promettendo protezione eterna a chiunque si fosse baciato sotto questa pianta miracolosa. Se però vi manca il vischio, di più facile reperibilità è sicuramente una bottiglia di bollicine da stappare per salutare l'arrivo del nuovo anno. Attenzione però al tappo, alcuni scienziati hanno valutato che la sua velocità di crociera, una volta stappata la bottiglia, e di circa 40 km orari. Occhio dunque a dove mirate quando aprite uno spumante. Al di là di ogni ragionevole credenza sulla fortuna veicolata dai tappi che toccano le persone, non farà certo bene alla salute ricevere un proiettile di sughero addosso, a dispetto di qualunque brindisi di inaugurale.